Mary Jane ASMR Ciao Ciao ragazzi Come va? Spero tutto bene Spero vada tutto molto bene Oggi ci rilasseremo con un video trigger visual trigger particolare dedicato ai suoni dell'acqua Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e se vi piacciono i miei video lasciatemi un like sarà di sostegno per me e di aiuto al canale nella sua crescita intanto vi auguro buon rilassamento ecco qual è il primo trigger che vi voglio mostrare oggi questa ampolla a proposito di water sound questo è la prima volta che lo porto sul canale è è è la trovo molto rilassante oltre ad essere un visual trigger pazzesco la trovo molto rilassante 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 Sono le ampolle che però questa volta passerò sul peruscento. Queste, il loro suono si sente maggiormente rispetto all'acqua contenuta nella clessidra. Starto la prima altra! Che manco? Tampouche? Tampouche? Un momento che non suggerisco. Prossimo? Che va a fare? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.